Un solo salto, un solo errore. Così nel 2010 la vita di Giulia Ghiretti è cambiata per sempre. Un tragico incidente che non ha però saputo cancellare i sogni e la tenacia di una giovane atleta che dentro di sé aveva già la stoffa della campionessa. Da giovane promessa del trampolino elastico Giulia è infatti diventata una delle stelle più brillanti del nuoto paralimpico, collezionando 23 medaglie internazionali tra Paralimpiadi mondiali ed europei. Il suo argento ai giochi di Tokyo 2020 nei 100 metri rana è da Cineteca, una rimonta pazzesca per un risultato tanto inatteso quanto meritato. In basca ha battuto record su record senza mai perdere quella positività e quella determinazione che l'hanno portata a diventare una delle prime atlete paralimpiche del gruppo sportivo Fiamme Oro e a puntare dritta ai prossimi obiettivi i vicini mondiali di Manchester e poi Parigi 2024.